...le paure del figlio e dell'ospedale, a casa, il Signore si racconta, e guardi il tuo figlio. Ci ritroviamo questa sera, la liturgia, la parola, per vivere in qualche momento di comunione, per prenderci conto di questa esperienza nuova che viviamo nell'ambito della nostra pioggia. L'esperienza che andiamo a vivere sempre più di comunione, in modo che stiamo pronti a darci questo cammino di fede e testimonianza, mettendo il fiorignore del piatto, i doni che abbiamo ricevuto, sapendo che la nostra vita, la vediamo, 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 la vediamo con la testimonianza, con l'impegno a coprire insieme, sul cammino di fede e liberale. E con inshiệpimenti, vediamo, la vediamo, la vediamo, la vediamo.